Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusatemi per il continuo cambio di background, ma come sapete in casa nuova sto ancora cercando la postazione giusta, l'illuminazione giusta Voi mi raccomando però in ogni video continuate a dirvi come vi sembra la postazione filming, come vi sembra il background, come vi sembra insomma la luce Fatemi sapere, mi raccomando perché è molto importante per me il vostro feedback e appunto sto pensando a come riorganizzare completamente tutto il mio studio, quindi mi serve davvero Comunque oggi come potete vedere ho pensato di fare questo video un po' particolare, video che avevo già fatto una volta in passato e vi era piaciuto tantissimo Quindi ho pensato di riproporlo, anche perché nel tempo mi arrivano sempre un sacco di domande di questo genere, quindi come dico sempre di materiale ce n'è E quindi nel tempo ne ho accumulato e tante altre da quando ho fatto quel video e ho pensato di riproporre questa tipologia che è sempre un po' attira haters, attira così Però secondo me è interessante e perlomeno riesco a rispondere a tutte queste domande che mi vengono fatte così spesso che mi rendo conto sono delle semplicissime curiosità E semplicemente queste domande rientrano in questa categoria non tanto per la domanda in sé quanto per il modo in cui è stata posta, il modo in cui viene posta la domanda Quindi vi lascio al video ma prima vi ricordo di mettere like se vi è piaciuto e iscrivetevi attivando la campanella altrimenti mi perderete nell'infinito di youtube Ho qua il mio cellulare pronto, rigorosamente rosa ragazzi e vediamo di rispondere una volta per tutte a queste domande Allora la prima mi fanno impazzire tutte, la prima però mi piace particolarmente che dice Nicole e questa è una costante Cioè tutte queste domande mi vengono fatte costantemente ragazzi tenete in mente questo è una costante Allora la prima perché hai la dentiera slash perché non ti sistemi quei denti che sarebbe anche ora Allora queste un po' sono le due domande sullo stesso argomento che mi vengono fatte molto spesso Allora perché hai la dentiera ci tengo a specificare io non lo so perché me lo chiedono però cercherò di rispondere a tutte le vostre curiosità Perché hai la dentiera? Non ho la dentiera ci tengo a dirlo non ho la dentiera se vedete che parlo in modo strano è perché ho l'invisalign da qualche mese Ho l'invisalign e probabilmente dovrò averlo per altri penso altri 3-4 mesi e quindi per questo a volte mi sentite o pronunciare la S in modo strano Ho l'EF in modo strano e a volte mi capita a volte no con l'invisalign non so come mai se avete esperienze a riguardo Fatemi sapere perché a volte appunto non sembra da come parlo che io ce l'abbia a volte invece sì e non so da cosa dipenda Comunque sì è per questo non ho la dentiera ma l'invisalign che è un apparecchio per i denti completamente trasparente Che va a rivestire praticamente i denti in plastica e li guida in una so che probabilmente tutti saprete cos'è l'invisalign ma lo spiego per chi non dovesse saperlo Appunto ti raddrizza i denti però è invisibile ed è una figata pazzesca però è appunto per questo Per questo non ho la dentiera e perché a volte mi rendo conto che si noti tipo il fatto che non lo so È trasparente naturalmente però si vede secondo me un po' il fatto che sia un pochino più lucido magari rispetto ai miei denti eccetera E quindi molti pensano che io abbia la dentiera non ho la dentiera ci tengo a specificare una volta per tutte questo E poi perché non ti sistemi quei denti allora non ho nulla da sistemare nel senso che i miei denti sono sanissimi Grazie per chi si preoccupa I miei denti sono sanissimi non ho carie non ho nulla e se intendete il fatto che sono storti sono d'accordo Infatti ho messo l'invisalign proprio per questo perché non mi piace il fatto di avere i denti storti In molti mi dicono invece che ho messo l'invisalign per niente perché non ho i denti storti Però al contempo ho centinaia di messaggi che mi dicono perché non ti sistemi quei denti che sono storti Quindi non so alla fine io ho messo l'invisalign perché davano fastidio proprio a me e non so se si nota Sotto sono dritti ma sopra sono appunto storti solo sulla parte destra Quindi è stranissimo perché cioè da questa parte sono completamente dritti e da quest'altra invece sono tutti Cioè non posso dire completamente storti però non sono completamente dritti quindi questo è quello che sto raddrizzando Poi altra domanda ma non lo vedi che stai diventando calva smettila con tutto quello che ti fai sui capelli Quindi penso intendano extension colpi di sole eccetera oppure oppure mi chiedono perché hai così pochi capelli Hai pochi capelli Nicola hai pochi capelli Allora anche questa domanda che io mi rendo conto di avere Allora non ho pochi capelli ho soltanto i capelli molto molto sottili e completamente dritti Quindi potete immaginare che una persona che ha i capelli grossi naturalmente ha istantaneamente più massa Sembrano di più ma non lo sono e una persona che ha i capelli più grossi che già ha più massa di me ma magari li ha anche ricci Vum si ritrova un cespuglio che sembra essere un cespuglio ma magari ha lo stesso numero di capelli che ho io Spero di riuscire a spiegarmi non è una cosa che mi capita perché faccio i colpi di sole o perché ho messo l'extension Ho sempre avuto i capelli così sottili zero volume liscissimissimissimi anche quando non andava di moda averli liscissimissimissimi ok E quindi non ci posso fare nulla ho poco volume ho messo l'extension proprio per questo perché mi aiutano ad avere un pochino di volume un pochino di massa Anche perché i miei capelli vista la tipologia così sfigata quindi sono molto sottili si spezzano anche molto facilmente Quindi per me è molto più facile spazzolarli e vederli che si spezzano oppure semplicemente con l'elastico vedere che si spezzano E quindi anche per questo può essere che li vediate meno voluminosi cioè non tanto voluminosi e non tanto insomma così tanti ecco questo intendevo dire Quindi non vi preoccupate per i miei capelli vi ringrazio sono sfigatelli ma sono sempre stati sfigatelli sempre stati Anche se penso che l'extension scusate anche se l'extension penso che un pochino me li abbia indeboliti ma soltanto in quelle piccolissime ciocche dove sono state attaccate l'extension per il resto no Quindi se vi sembra che io abbia pochi capelli non è che ho pochi capelli sono semplicemente molto sottili fragili e appunto non sembra siano così tanti come magari chi li ha più spessi o ricci o ondulati ecco Poi altra domanda che mi viene fatta è perché non fai un po' di sport sei magrissima ma diventerai flaccida ti manca tono muscolare Allora anche questa mi viene detta fatta mi viene fatta molto spesso questa domanda mi viene detta molto spesso questa cosa Allora l'unico sport che faccio è andare in bicicletta qui in Olanda mi sposto con la mia bicicletta perché non mi vedete fare sport tipo pallavolo cose del genere non lo so Penso intendiate questo o altro genere di sport eccetera Allora in un video vlog di un po' di tempo fa vi avevo spiegato un po' questa cosa nel senso che per via dello stato di salute delle mie ossa Nel senso che ho una carenza di vitamina D gli sport a contatto per me sono più pericolosi di quanto possono esserlo per gli altri Nel senso che le mie ossa essendo più fragili rispetto agli altri è anche più facile che si spezzino praticando questi sport appunto sport a contatto Quindi è per questo che magari non mi vedete fare altri sport appunto oltre ad andare in bicicletta eccetera E' per questo è perché non è oppure altra ecco altra domanda che mi viene fatta spessissimo Perché non vai a correre perché non vai a correre penso che sia molto di moda non lo so O è di moda tra gli influencer adesso perché è una domanda che mi viene fatta spesso nell'ultimo periodo perché non vado a correre Dovuto sempre a questo problema alle ossa e al problema della schiena E non posso andare a correre perché se lo faccio ho dei fortissimi dolori alla schiena non sto neanche scherzando Mi è successo da piccola e sono andata a saltare su quei materassi Andavano tantissimo di moda queste reti enormi e andavi e saltavi Ci sono andata un giorno e il giorno dopo non sono più riuscita ad alzarmi dal letto Non mi ricordo per quanti giorni se non sbaglio tre giorni una settimana insomma dal dolore di schiena penso Avevo tipo sette anni all'epoca penso di aver avuto sette anni e mi ricordo ancora quei giorni in cui non riuscivo ad alzarmi per il dolore di schiena Se questo succede se salto se invece vado a correre che logicamente non è la stessa cosa Se andassi a saltare solo saltare ok però nella corsa ci sono comunque dei piccoli salti che si fa correndo no Perché ci sono sempre dei momenti nella corsa quando si cammina no ma quando si corre c'è un nanosecondo in cui si sta in aria no E quindi quello è un piccolo salto che per la mia schiena è terribile Corro tre secondi corro cinque secondi è una cosa se mi metto a farlo per un prolungato periodo di tempo Ho dei dolori alla schiena allucinanti che non potete neanche immaginare Quindi è principalmente per questo se non vado a correre e non mi vedete fare altri sport Ma in particolare appunto la domanda era perché non vado a correre Poi altra domanda che includerei in questa categoria questa invece mi viene fatta da undici anni Diciamo da dieci dai ci ha messo un po' ad iniziare dopo che avevo iniziato youtube E perché non vai a lavorare? Io ho affrontato spesso questo argomento nel senso che nella mia quotidianità vi faccio entrare appunto nella mia vita Cioè nei miei vlog vi faccio entrare nella mia vita nella mia quotidianità E quindi tutti voi che mi seguite fate parte della mia family sapete qual è il mio lavoro Conoscete molto bene molto bene qual è il mio lavoro perché affiancandomi un po' nella mia vita da influencer Voi un po' come se fosse tipo i miei non lo so i miei personal assistant ma non mi piace i personal assistant Tipo voi è come se viveste con me e quindi sapeste esattamente com'è il mio lavoro Com'è strutturato su che cosa si basa che cosa faccio io eccetera eccetera Però mi capita sempre di avere il commentatore tipo che non ha la minima idea di quello che io faccio Che mi scrive vai a lavorare vai a lavorare ecco E allora mi fa ridere questo commento perché comunque cioè io sono dell'idea che ognuno possa scrivere quello che vuole E quindi va bene anche così Però non li cancello neanche vi giuro Però cosa mi sento di rispondere sempre quando vedo questi commenti mi sento sempre di rispondere Ma io sto lavorando Cioè se tu mi stai vedendo dietro ad uno schermo significa che io in quel momento proprio sto lavorando O stavo lavorando quando ho registrato quel video Quindi mi sembra non so se queste persone non sappiano niente dell'influencer marketing Oppure forse lo scrivono un po' come per intendere questo non è un lavoro vero Vai a lavorare vai a trovarti un lavoro vero Allora a parte che come dice Lolla Mr. Aubrey Fields mi piace molto Qualcuno dovrà spiegarmi un giorno come ho fatto ad acquistare una casa con un lavoro finto E non solo una casa ma molte altre cose Però quello che invece piace rispondere a me È di andarlo a dire all'agenzia delle entrate Al mio commercialista All'agenzia delle entrate olandesi A questo punto alla camera di commercio andate a dire che non è un lavoro Non paghiamo più le tasse ragazzi se non è un lavoro E ovviamente si fa per ridere ma è talmente ormai Cioè per me youtube o l'influencer marketing manco si chiamava così Quando ho iniziato io manco si sapeva che iniziando si sarebbe potuta trasformare in una carriera Per me è talmente normale il mio lavoro Perché lo faccio da quasi 11 anni ragazzi Che per me è il lavoro più normale del mondo Cioè nel senso mi rendo conto che è un lavoro singolare Ma per me è la normalità e la quotidianità Quindi quando leggo commenti del genere mi fa molto molto ridere Perché chi è che decide qual è la vita normale Chi è che decide qual è un lavoro normale Lo decidi tu che mi scrivi questo commento Quindi questo è il mio punto di vista insomma E in passato mi è capitato anche di avere a che fare con persone nella vita Che mi hanno detto una frase del genere E non fanno più parte della mia vita Poi altra domanda che mi viene fatta da sempre Da sempre praticamente è Prima mi dicevano perché ostenti i tuoi trucchi E poi adesso mi dicono perché ostenti le tue borse I tuoi acquisti costosi Quindi appunto questa domanda si può riassumere In perché ostenti i tuoi acquisti costosi Allora a me dispiace moltissimo che passi il messaggio Che io voglia ostentare i miei acquisti Io ho iniziato a fare questa tipologia di video Perché la vedevo fare nei canali di altre ragazze Che io seguivo e che mi piacevano Quindi ho iniziato a fare questi video perché mi piacevano Non ho mai percepito che queste ragazze che seguivo su youtube Lo facessero per ostentare E non è per questa motivazione che io lo faccio Semplicemente secondo me sono dei video molto carini Visto che appunto il mio canale è basato su queste tematiche Così allegre, frizzanti, frivole se vogliamo Ma a me è sempre piaciuto vedere cosa acquistano le altre ragazze Sia, o gli altri ragazzi, sia i miei amici, le mie amiche Che poi online Ho scoperto che mi piace vederlo anche online Ma io lo percepisco come se appunto Facessi vedere i miei acquisti a mia mamma O alle mie amiche, ai miei amici E stessa cosa quando vedo un video di questa tipologia Non ho la percezione che la persona voglia ostentare a tutti i costi Quello che ha acquistato Ho la percezione semplicemente Beh, forse di alcuni si può anche avere questa percezione Ma in linea generale In linea generale per me Vedere questi video è un passatempo E mi sembra come se fosse una mia amica O un mio amico che mi fa vedere i suoi ultimi acquisti Quindi a me piace Ho iniziato a farlo per questo E moltissimi, moltissimi mi seguono Anche per questa tipologia di video Che piace sempre tantissimo E quando non carico video all per un po' Tra l'altro C'è sempre tantissima, tantissima Una grossa fetta di persone Che mi dice Nicole Ma quando è che arriva un video all? Ma quando è che arriva un video all? Che è tantissimo che non fai un video all? Quindi Sono video anche molto molto richiesti E appunto non li faccio con questa intenzione Io voglio semplicemente condividere Tra tutte le cose che condivido sul mio canale Anche i miei acquisti con voi Perché ho visto anche che piacciono questi video Ma non è una cosa che io faccio con cattiveria O con l'intenzione appunto di sentirmi superiore agli altri Perché io ho un oggetto che altri non hanno Non sono fatta così Non ragiono così Non definisco le persone in base a quello che hanno Quindi non è assolutamente così Ecco questo Ci tengo sempre a precisarlo Mi viene detto molto spesso Ma ci tengo a rispondere a questa cosa E poi Questa è veramente il top dei top E mi sta arrivando da un po' di tempo Quando è che metti su famiglia? No, come che mi dicono? Me la sono scritta Quando è che ti trovi un fidanzato e metti su famiglia? Allora Io sono stata fidanzata per tutta la vita Nel senso, ok? Cioè mi piace anche stare un po' single E godermi questa mia singletudine Con tutto quello che comporta, ok? Quindi magari vi aggiungerò nel tempo E quindi è così insomma Però Per il momento che poi, no? Anche qua Allora ci sono tutti i membri della mia family Che mi dicono Nicola adesso stai single Mi raccomando per un po' E poi invece c'è un'altra fetta di persone Che mi dice Ma quando è che ti trovi un fidanzato e metti su famiglia? Che poi c'è sempre questa idea Cioè Se c'è un uomo che è single Nessuno gli dice Ok? Se c'è un ragazzo che è single Nessuno gli dice Ma quando è che? Forse alcuni Però per le donne è peggio Secondo me Io ho questa sensazione Per me è così Cioè per le donne Una donna single Nella nostra società Non viene Cioè è come se fosse una cosa Non Non pervenuta Cioè la gente non riesce proprio ad accettare E a capire Quindi Questa è un po' La risposta che posso dare a questa domanda Però in linea generale Allora io non me la prendo Perché è anche giusto Che mi venga chiesto Eccetera Però Non è sempre una buona idea Io ve lo dico Non è sempre una buona idea Chiedere queste cose Perché può essere anche un po' Poco carino magari No? Per alcuni Insomma Però Io ci tengo a rispondere a tutti Ci tengo a rispondere Questa domanda Visto che sta diventando molto Come dire Molto Diffusa Come devo dire Molto Ricorrente Volevo rispondere anche a questo Per il momento ragazzi è così Mi troverò Un fidanzato Cosa volete che vi dica Perché me lo dite Sui ultimi Non me lo sto scherzando Ma per il momento è così Però insomma Stay tuned Che cosa vi devo dire Cioè sono imbarazzata Quindi mia family Spero che vi sia piaciuto Questo video Mi raccomando Se avete consigli Sui prossimi video Scrivetevi tutto Nei commenti Io vi mando Un bacio grandissimo Vi abbraccio Forte 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 E noi ci vediamo Lunedì Puntuali alle 17.30 Con un nuovo video Buon weekend Baccio grande Ciao Ciao